Un umano aumentato è una nuova tipologia di utente dei social media che utilizza i bot per migliorare la propria visibilità o la propria influenza all'interno dei social net. Imaginiamo che questo sia il nostro umano aumentato. Ne abbiamo di due tipi. Nel primo tipo, questo utente viene seguito da altri utenti automatizzati che prendono il nome di bot e chiaramente anche da altri utenti umani classici. E questo viene sostanzialmente utilizzato per gonfiare il proprio numero di follower e quindi ottenere più visibilità all'interno dei social network. Il secondo tipo di umano aumentato è quello che produce invece un contenuto qualunque può essere un post su Facebook o per esempio un tweet su Twitter e ingaggia diversi bot, molto numerosi a volte, per retweetare e diffondere questo stesso contenuto in modo da ottenere influenza e visibilità rispetto a quel contenuto. Abbiamo analizzato l'attività social durante le recenti elezioni politiche italiane utilizzando tecniche per l'analisi di sistemi complessi e di intelligenza artificiale e quello che abbiamo scoperto è che ci sono numerosi umani aumentati che hanno svolto un ruolo cruciale all'interno del social network.